Signore quando ho fame dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, quando ho sete mandami qualcuno che ha bisogno di bevande, quando ho freddo mandami qualcuno da riscaldare. Non è straordinario la prima raccolta di poesie su Madre Teresa interpretate dal grande maestro Arnoldo Foix e racchiuse in un pratico cd da ascoltare dove e quando vuoi. È finalmente arrivata Poesie e Messaggi di Saggezza, la prima collana culturale da leggere e da ascoltare. Le parole di poeti, scrittori, filosofi, saggi e grandi pensatori di ogni tempo raccolte per te in dieci pratici cofanetti, all'interno dei quali potrai trovare come in un magico scrigno un libro con i testi delle poesie e dei messaggi di saggezza che ci hanno appassionato nei secoli e un cd sonoro con l'interpretazione di due grandi attori italiani, Arnoldo Foix e Nando Gazzolo, accompagnati da una suggestiva atmosfera musicale. Un'opera unica che non può mancare nella tua libreria, una scelta di stile e di bellezza, un'idea innovativa e originale da regalare in ogni occasione. Per fare di ogni occasione un momento speciale. Telefona subito e ordina l'intera collana al prezzo di 170 euro oppure i singoli cofanetti al prezzo di 18,50 euro. Quante volte vi siete domandati che cosa regalare per un compleanno, un anniversario o per Natale cercando di non essere banali ma anzi originali e allo stesso tempo romantici? La risposta è poesie e messaggi di saggezza. L'unica collana che ti trasmette passione, emozioni, sentimenti, l'unica collana che ti regala parole, musica e immagini. Acquistando il cofanetto dedicato alle poesie e agli scritti di Madre Teresa si avrà qualcosa in più, le commoventi immagini della sua ora missionaria. E se acquisti l'intera collana riceverai in omaggio questa esclusiva miniteca, un oggetto prezioso e indispensabile per raccogliere i tuoi cofanetti. Un modo antico per rinnovare un'emozione che non invecchia mai, il calore che solo la parola e la poesia possono evocare. Ricordo tutto di te, anche le più piccole cose, le ti rivedo e ti riconosco. E come tu fossi ancora qui, ora so quanto mi hai amato, forte della tua esperienza di figlio, tutto mi ha insegnato, anche a soffrire. Ordina subito la tua collana esclusiva al prezzo di 170 euro, oppure uno o più cofanetti al prezzo di 18,50 euro. Chiama ora al numero 0761 461644 o visita il sito www.lettera.com. Poesie e messaggi di saggezza, la poesia da leggere, da ascoltare, da amare.